Si comincia in campo Real Forio e Afro-Napoli United per la terza giornata del primo turno di Coppa Italia, eccellenza e promozione. Occhio al pallone dentro, esce Di Orio, il pallone resta lì, non c'era stato il fischio dell'arbitro, quindi una buona occasione per l'Afro-Napoli United. Il primo campo per Ciro Saurino, lancio lungo nello spazio per Trofa, occhio a Saurino che ha spazio, va al tiro Saurino, altissimo. Un po' di spazio De Luise, accelera Mora, 1-2, Mora di prima dentro per Vitagliano, Vitagliano rimpallato, ma è questa la prima grande occasione per il Real Forio. Iaco no, rimessa per Gianluca Saurino che cade, intervento regolare, occhio a De Luise, grande occasione per De Luise, pallone fuori. Parte Mora col sinistro, oh che gol, Nicola Mora la mette lì, 1-0. Si parte con il secondo tempo, con il Real Forio in vantaggio, 1-0. 4-4-2, Vitagliano recupera palla, Vitagliano in area, Vitagliano, Vitagliano, ancora Vitagliano, grande parata. Nicola Mora, Davide Trofa può andare al cross, entra in area Trofa, cross sul secondo palo per Saurino, ottima girata di Saurino, salvataggio sulla linea. Giocando più avanzato rispetto al primo tempo, si è scambiato con De Luise, occhio adesso a Saurino, che gol, 2-0 di Gianluca Saurino. Palumbo alla battuta di questo calcio di posizione, va direttamente al tiro, Palumbo, che gol di Palumbo che accorcia le distanze. E quindi alla fase ad eliminazione diretta, Ciro Saurino per Gianluca Saurino, pallonetto di Gianluca Saurino, traversa piena, Nicola Mora il tiro. Clamorosa azione sbagliata dal Real Forio qui. A spazio il Forio, occhio a Davide Trofa sulla sinistra, si propone Nicola Mora che va al cross, occhio a Vitagliano, la mette giù. Ora pallone dentro per Gianluca Saurino, ancora Vitagliano, Vitagliano, Vitagliano! 3-1, primo gol in maglia bianco-verde per Mario Vitagliano. Finisce qui il match, il Real Forio vince 3-1 sull'Afro-Napoli United e accede alla seconda fase della Coppa Italia, eccellenza e promozione.